Ok signori, un ben ritrovati, quest'oggi parliamo di come fare 1500 dollari più svariati punti esperienza col giorno 1 del collezionista molto molto semplice, ci vorrà un'ora e mezza, due ore di gioco se vi mettete la musica perché siete da soli molto molto bene ok, il tempo passa abbastanza veloce, l'ho fatto, passa ancora più veloce se siete in parti con amici lo fate insieme e vi divertite, io ho cominciato da solo come vedrete nei video poi durante il mio percorso si è aggiunta gente, alla fine eravamo in metà di 1000 tutti nella post e ci siamo divertiti tutti insieme a fare un po' di soldi perché comincio con questi video del collezionista e non con la guida del collezionista? perché questi video in realtà, innanzitutto molta gente sa già come usare il collezionista quindi questa guida è più che altro per chi ce l'ha già, quindi già conosce il mestiere ma non so come sfruttarla al meglio per far soldi B per gente alle pezze, che ha già il collezionista ma è alle pezze con i soldi e soprattutto perché C non è in alcun modo legata al collezionista quindi insomma non bisogna sapere le basi per far questa cosa basta praticare esattamente quello che dico, utilizzare i tool che dico ed è molto molto fattibile sotto vedete andare sia i video del sottoscritto che si fa tutto il giorno 1 sia la mappa di Jan Ropke che vi ricordo sotto in descrizione se non c'è comunque chiedetemela che ve la linko mappa di Jan Ropke che vi mostra tutti i vari giorni 1, 2, 3, la posizione di Van Daman Azzar che cambia non è collegata ai giorni 1, 2, 3 del collezionista e insomma utilizzeremo questa possiamo fare anche una cosa, potete fare o se fate finta che magari lo fate una volta a settimana ok, potete fare questo metodo il giorno 1, il giorno 2, il giorno 3, per esempio il sabato sabato magari non lavorate, non avete scuola o la domenica quello che è, sempre quel giorno a settimana vi fate 1500 dollari sapete che ogni settimana vi fate 1500 dollari così più il commerciante, insomma altre cose altrimenti potete tranquillamente utilizzando questa mappa fare le prime 10 monete più altre cose di cui andremo a parlare il giorno 1 poi il giorno 2 farete in un altro modo l'unica cosa basta che vi segnate quello che avete automaticamente la mappa ve li salva e vi tiene in memoria ciò che avete fatto il giorno 1 e ciò che non avete fatto che dovete recuperare il giorno 2 insomma ci sono tutti i metodi per poter far bene allora a noi quello che interessa per fare 1500 dollari in un'ora e mezza barra 2 oltre al fatto che fate una vaccata di esperienza io mi sono fatto 10 livelli del commercialista nel collezionista da solo in una giornata quindi l'ho finito di base e un'altra cosa che ho fatto penso un rango un rango qualcosa di più più esperienza per le cartabilità quindi questo metodo è un metodo incredibile che fa qualsiasi cosa è un buon modo per farmare tutto non vi consiglio di prendere tutti i collezionabili di un giorno perché non ne vale la pena si diventa scemi ok l'unica cosa che volete raccogliere sono sapientemente le monete allora facciamo nascondi tutto ok ne vogliamo le monete perché pagano 540 dollari il set completo poi vogliamo gli anelli smarriti che pagano 378 poi vogliamo le collane ok che pagano 335 dollari e infine gli orecchini smarriti un'altra cosa che dovete fare è attivare madame nazar cambia ok mentre invece il giorno 1 sarà sempre uguale per tutti i giorni 1 il giorno 2 eccetera eccetera madame nazar cambia ha i suoi tipi di spawn sono 8 diversi quindi non ce l'avrete sempre come ce l'ho io nel video del giorno 1 l'ho fatto ieri e mi è spawnata tipo in zona annesburg attualmente mentre sto registrando è in zona black water quindi non fate caso a questa cosa semplicemente poi per vendere andrete con un con un viaggio rapido dove dovete andare allora una cosa importante sotto da abilitare è abilita percorso ok tendenzialmente vi fa il percorso più sensato a volte mi è capitato nel giorno 2 ma ne parleremo quando farò il video del giorno 2 ho dovuto fare dei piccoli dei piccoli tweak ok giusto qualche piccolo qualche piccolo ritocchino quindi io do per scontato che voi vogliate fare tutto in un giorno solo perché magari riuscite a spararvi due giorni a settimana due facciamo finta sabato e domenica riuscite a farvi il giorno 2 e il giorno 3 per esempio di conseguenza vi sparate 3000 dollari a settimana quindi vi faccio tre video separati per tutti i giorni come l'ho fatti io quali sono le problematiche che ho avuto eccetera eccetera ovviamente come vi dicevo potete cominciare il giorno 1 andare avanti il giorno 2 poi magari finirlo il giorno 3 non c'è assolutamente problema allora si comincerà da Tumbleweed consiglio sempre di cominciare dalla zona del New Hosting perché ne ha di meno si viaggia di più ok sono molto più separati e tanto alla fine Madame Nazare spawna quasi sempre nell'altra parte della mappa non nel New Hosting quasi raramente nel West Elizabeth quindi sempre nella mappa di Red Dead 2 e non di Red Dead 1 quindi partite da Tumbleweed vi fate il giro abbiamo detto che vogliamo 4 categorie diverse monete, orecchini, collane e anelli per un totale circa di 1500 dollari quindi voi vi fate Tumbleweed poi vi farà di base a Tumbleweed ne avete 2 vi farà scendere vicino al Messico piano piano continuate in zona Rio Bravo poi risalite quasi vicino ad Armadillo direttamente a Thieves Landing in zona Blackwater ne avete 4 o 5 piano piano risalite andate a Stroberry zona Stroberry mi raccomando attenzione perché poi salite per andare alla caverna del tizio se non mi sbaglio che si traveste da Satana quindi nella storia ovviamente occhio a quella fase perché ho avuto difficoltà io a trovare esattamente l'entrata eccetera ho perso effettivamente dei minuti poi ho trovato un cagacazzo però di media in un'ora e mezza ce la si fa io contate poi che ho dovuto chiudere per andare un attimo a mangiare eccetera eccetera di gioco effettivo ho fatto 2 ore e 20 però ho avuto anche le mie difficoltà ai miei contrattempi dopodiché proseguite su Little Creek River ok vi fate la zona di Walla Station dopodiché arrivate a Valentine da Valentine proseguite in alto ok verso la Camberland Forest questa zona qui è molto fastidiosa dove ci sono le montagne quindi fate molto attenzione rifatevi sempre conto alla mappa e state molto attenti dove trovate le zone con dei dirupi collinari eccetera perché fa la differenza pensare di dover salire su una scogliera o quello che è e dover invece star giù quindi fate molta molta attenzione perché io ho perso per esempio 10 minuti cercare di salire su una cazzo di montagna sicuramente non si può salire e invece c'era una cassettina del cazzo da prendere che era esattamente sotto ma che io non vedevo altra particolarità del giorno 1 sono quasi tutti da scavare ok a differenza del giorno 2 che c'è sicuramente molta più roba trovabile con l'occhio d'aquila qui invece dovete scavare quindi ovviamente cerca metalli a cannone ovviamente ne parleremo poi nella guida del collezionista permettetemi di dire una volta collezionaio ok ce l'avevo insito da doverlo dire quindi siamo in zona poi ambarino quindi montagne eccetera eccetera torniamo indietro torneremo giù nel new on over verso l'emerald ranch dopo di che andremo a roads andremo a roads dopo di che abbiamo in zona caliga hall ok dove la breakweight manor insomma dove ci sono le due famiglie a san denino non abbiamo niente di base abbiamo due due oggetti alla grass quindi nella zona paludosa e concludiamo con tre oggetti avanorn anzi due oggetti avanorn tre ad annesburg e uno sopra in montagna vicino all'osservatorio questo di base è il giorno 1 vi ripeto se siete abbastanza veloci un'ora e mezza i punti critici ve l'ho detti le montagne e le caverne state sempre molto attenti a queste zone mi è capitato una volta di trovare un rompiballe per il resto no ho sempre avuto altri altri player sì forse qualcosa altro che ho trovato a volte vi capiterà di poter prendere le monete anche mentre gli altri stanno scavando ok stanno tirando fuori la cassetta ve lo farà prendere automaticamente poi la cassetta resterà lì chiusa vi dirà poi che potete riaprire la cassetta non fatelo perché tanto non si trova dentro niente io speravo di poterni prendere due perché pensavo fosse glitchato ci ho provato un po' di volte ma ma non è successo direi che siamo circa a posto è sicuramente il metodo migliore per farmare è sicuramente il metodo migliore per finire in tempi celeri tutto il collezionista è il miglior metodo per farsi 1500 dollari in un giorno cioè non esiste altro metodo potete fare dei mischioni vi posso citare The Professional se lo conoscete inglese o americano che sia vi propone un metodo di base che vi permette di fare 4000 dollari in una giornata ma parla di 6 ore di gioco onestamente 6 ore di gioco in un giorno potete mettervele nel culo quindi è abbastanza improponibile sicuramente vi posso dire che se avete per esempio il commerciante finite magari il giorno 1 andate a fare le scorte poi chiudete la Playstation e se fate così per 3 giorni teoricamente dovreste arrivare a 100 casse poi vedete sono altre 600 dollari comunque questo è effettivamente il modo migliore per fare per fare denaro e esperienza vi ricordo le cartabilità se le state se le state pompando molto utile che le cambiate porterò poi delle guide in metro sulle cartabilità e sulle armi da prendere quindi questi soldi metteteli via ricordatevi di guardare spesso quanta esperienza vi manca per le carte in modo che tutti i tutti i punti esperienza in più che prendete non vadano sprecati perché o almeno cambiate carta e ne portate avanti altre altrimenti migliorate quelle che avete e così non perdete punti esperienza perché se voi arrivate per esempio a livello 2 e non l'upgradate a livello 3 scusatemi se voi potete finite la 1 potete upgradarla al 2 non lo fate l'esperienza la perdete quindi se proprio proprio non avete 350 dollari ma ne avete 50 comprate un'altra carta da upgradare giusto perché nel caso ce l'avete non è utile buttarvi a questa esperienza perché di solito vi fate 100 punti esperienza a volte 150 a volte capita che per ogni oggetto che trovate venite a tipo 300 350 sono tanti 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 punti esperienza quindi non buttatele via questi soldi se non sapete come come usarli aspettate che arrivino le guide per le armi per il pvp e poi per le carte abilità quindi teneteveli di base se voi anche solo fate un giorno 1 un giorno 2 o un giorno 3 cioè se vi fate almeno due giorni a settimana durante il weekend voi vi sparate facilmente 3200 dollari a settimana e sono veramente tanti su red dead sono veramente 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 tanti quindi signori direi che da Reno per questo giorno 1 è tutto in verità i giorni sono quasi simili cioè cambia la posizione zone critiche però ve lo porterò lo stesso per ve lo porterò lo stesso per completezza e poi arriveranno le guide sulle armi come vi dicevo sulle cartabilità le migliori build da fare le armi da prendere l'ho già detto sì poi il collezionista e poi continueremo all'infinito poi arriverà su pc e quant'altro io vi ricordo che ci sono i gruppi di red dead su pc che ho fatto su telegram poi ci sono gli altri gruppi il mio personale red dead italia invece che è l'altro gruppo con cui collaboro vi ricordo di poter scrivere in privato instagram telegram quello che volete tutto sotto in descrizione da Reno è veramente tutto noi ci vediamo alla prossima 3 2 1 aloha 5 5 6